Si chiama Maggie Milswell, è una ragazza americana abita a Coffeyville, ci troviamo negli stati d'America fidanzata con un ragazzo di nome Matthew dall'anno 2022, finalmente si sono sposati, matrimonio in stile americano, pochi giorni fa, il 4 di giugno, la ragazza infatti ha detto sì, ma ha voluto fare anche una bellissima sorpresa alla amata nonna, quale? quella pensate di indossare il vestito meglio l'abito della sposa che lei stessa indossò, quando era giovane ovviamente, in concorrenza del suo matrimonio, la reazione della nonna è stata una reazione incredibile, luccissima, il video pensate che è diventato virale su web, andando ad avere più di 50.000 visualizzazioni, va bene? Si tratta precisamente di un abito di colore rosso, con cui per 50 anni o sono, si era sposata proprio la nonna di Maggie, ed è un abito insomma bello che dal solo vedere la rara donna, anzi la signora è rimasta colpita e ha avuto una reazione terribilmente dolce da narratore italiano è tutto, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti!